buonasera amici di fan siamo qui con germoni dell'alba roma dopo alba roma casalotti finita 4 a 3 come giudica la prestazione oggi dei ragazzi una bella prestazione soprattutto di cuore comunque siamo andati sotto l'abbiamo ripresa loro grande squadra però merita tutti noi nostri ragazzi contava solo vincere pure loro una rimonta importante in ottica campionato tre punti molto importanti qual è l'obiettivo finale dell'alba roma l'obiettivo siamo la sopra ci nascondiamo ormai vogliamo arrivare al primo posto cerchiamo di giocarci la partita dopo partita e poi vediamo quello che viene però tutte le partite giochiamo sicuramente per vincere la ringrazio buona serata